Buon sabato! Buon sabato e buon jump! Eccoci! Bravo Rob! Prima di tutto, vorrei salutare un po' gli amici, posso farlo? Sì! Bujour mon ami! Hasta la vista hermano! Hi friend! How's it going? Tutti gli amici che ieri sera dall'estero ci hanno ordinato i vinili dei pergem e di prince e di tutta la roba di questo day, bellissimo, vi vogliamo bene! Ok, partiamo con una recensione doppia e iniziamo con l'album degli Smile, il nuovo progetto di Tom York Radiohead, un disco secondo me bellissimo di psicheteria pura, molto giocato sull'acustico, con riferimenti, tanto per darvi dei cenni, sull'album di Jeff Buckley e in piccola parte sui primi album dei Pink Floyd. Voto a questo disco 9, grandissimo album degli Smile di Tom York Radiohead, straconsigliato! Rego Storm Day! Abbiamo ascoltato l'Alf Speed Mastering doppio vinile degli U, registrazione non a livello di quella di David Bowie ma molto buona, però ci stanno le sorprese! Ci stanno le sorprese ragazzi! Ci stanno le sorprese! Ci stanno le sorprese! Guardate qua! Guardate qua! Guardate qua! I vinili sono colorati! Comunque suona bene, suona bene, con gli inner sleeve, con i testi, arancione e giallo! Ok? Voto a questa masterizzazione, secondo me, 7, vinile molto 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 bello, lo conoscete, è un album particolare, molto particolare, con un'atmosfera stranissima, bello, veramente bello! E adesso vi facciamo vedere un'altra cosa, poi vi lasciamo, quale sarà la prossima recensione che faremo più tardi? Io vado, io vado! Il doppio d'avvio dei Pearl Jam, ragazzi! Il doppio d'avvio dei Pearl Jam, colore turchese trasparente! Più tardi ci aggiorniamo e faremo anche la recensione del Live on 2 Legs dei Pearl Jam! Buon Record Store Day! See you later!